Allora, eccoci, siamo in Piazza Merani, siamo nel cuore di Albaro, quindi comodo a supermercati, autobus e tutti i servizi. È un terzo piano con una fantastica esposizione che stiamo guardando adesso. Sono circa 90 metri quadri, immersi nella luce e nel silenzio, con questa magnifica balconata. Allora, adesso entriamo e ci portiamo verso la zona di ingresso e cominciamo la visita dell'appartamento. Siamo al terzo piano di un palazzo molto bello, signorile, ovviamente con l'ascensore e la cantina e da qui ci troviamo appunto nell'ingresso e questa è la porta. Quindi, ingresso, qui abbiamo la prima delle camere da letto o eventualmente la zona giorno, abbiamo l'aria condizionata e esponiamo tutto sul balcone che abbiamo precedentemente visto. Infissi in PVC nuovi, zanzariere, persianie nuove. Proseguendo, troviamo un bel bagno grande, in buone condizioni, volendo. La cucina abitabile molto grande, sempre esposta sulla balconata, qui abbiamo l'aria condizionata come nel resto della casa. E questa grande zona giorno, divisa in due parti, climatizzata anch'essa. Occorressero le due camere da letto, questa parte potrebbe diventare una zona cucina, a quel punto si libera la cucina che diventa la seconda camera e di fatto si avrebbe cucina aperta sulla zona giorno, questa diventa camera da letto e si hanno le due camere da letto grandi, un bel bagno grande, una zona giorno molto ampia e questa comoda e ampissima di spesa. Il riscaldamento è centralizzato, l'acqua calda è autonoma, ovviamente ci sono le valvole con i lettori di controllo di consumo. E, portandoci di nuovo nella zona giorno, andiamo a rivederci l'esposizione, che è sicuramente la caratteristica più bella di questo appartamento, che è un sud-est, nel verde, nel silenzio e in pieno sole. Balconata che prende tutto l'appartamento, i motori dell'aria condizionata, le tende, ovviamente tutte le cose che rimangono. Quindi, ricapitolando, zona giorno divisa in due parti. Ampia cucina abitabile. Un bel bagno grande, con la grandissima dispensa che abbiamo visto prima. Ingresso. Qua abbiamo un armadio a muro molto comodo, profondo. Ad oggi questa era utilizzata come zona giorno, può diventare una camera da letto. E, al piano terra, abbiamo la cantina. Ecco, e qua terminiamo il nostro giro. Grazie.